Il New Deal In queste drammatiche condizioni si svolsero le elezioni presidenziali del 1932. Dopo 12 anni di governo repubblicano si presentarono agli elettori due candidati. Da un lato il presidente uscente Hoover, un repubblicano, il quale come tutto il suo partito riteneva che la crisi si sarebbe risolta da sé e che un intervento statale avrebbe solo aggravato la situazione, pertanto si limitò a mantenere il bilancio in pareggio e a lasciare agli enti locali e alla beneficenza privata il compito di aiutare i disoccupati. Contro di lui si candidò l'ex governatore di New York, Franklin Delano Roosevelt. Con un programma che prevedeva un deciso intervento dello Stato per affrontare la crisi economica. Alle elezioni Roosevelt ottene una decisa vittoria, ottenendo i voti dei bianchi, tradizionalmente democratici del sud, ma anche degli operai delle città del nord-est, New York e Philadelphia, e del mid-west, Chicago o Detroit. Per lui votarono anche i farmers delle grandi pianure e del west, che fino a quel momento erano stati decisamente attratti dall'individualismo repubblicano. Anche la costa occidentale, California e Oregon, votarono in massa per Roosevelt. Per Hoover votarono solo il New England e la minoranza afroamericana, tradizionalmente legata al partito repubblicano, erede di Abraham Lincoln, che aveva liberato 70 anni prima gli schiavi. Roosevelt e la sua amministrazione governarono, caso unico nella storia degli Stati Uniti, per 16 anni. Fino a quel momento, nessuno aveva superato i due mandati di quattro anni ricoperti dal primo presidente, George Washington. Roosevelt, infatti, dopo la vittoria del 1932, vinse nuovamente nel 1936. Nel 1940, lo scoppio della seconda guerra mondiale in Europa, rese inevitabile una sua rielezione. Mentre nel 1944, sempre le necessità belliche, imposero una quarta candidatura. Nei primi mesi del 1945, senza vedere la fine del conflitto mondiale, Roosevelt morì, lasciando l'incarico al vicepresidente Truman, che governò fino al 1952. Sull'operato dell'amministrazione Roosevelt ebbero una forte influenza le teorie dell'economista inglese Maynard Keynes, espresse nella sua General Theory. Ponendosi in opposizione al tradizionale pensiero economico liberista, Keynes riteneva che uno dei dogmi di tale pensiero, ovvero che il mercato fosse sempre in grado di ritrovare un punto di equilibrio, non fosse più valido. Secondo Keynes, lo Stato poteva e doveva avere un ruolo positivo in ambito economico, soprattutto in funzione anticilica, ovvero contrastando una congiuntura economica negativa. Secondo l'economista inglese, un grosso ruolo poteva essere svolto dal debito pubblico, che in tempo di crisi poteva essere esteso, per finanziare interventi impossibili ai privati. In tale modo si sarebbe pompato denaro liquido nel mercato, riducendo anche il numero dei disoccupati. Secondo Keynes, quindi bisognava aumentare tendenzialmente i salari, anziché ridurli, come proponevano le tradizionali politiche deflazioniste. In seguito, con una successiva ripesa economica, lo Stato avrebbe provveduto a ridurre il proprio debito, grazie all'aumento degli introiti fiscali. L'insieme delle politiche operate da Roosevelt fu detto il New Deal. Esse non ebbero tutte un effetto positivo, e soprattutto non lo ebbero immediatamente. Il New Deal, il nuovo corso, ebbe invece un effetto positivo sul morale degli americani, che erano rimasti estremamente scossi dalla durezza della crisi, che sembrava minare alla base l'American Way of Life. In linea generale, lo Stato aumentò il numero degli occupati, tramite assunzione nella pubblica amministrazione e finanziando lavori pubblici, soprattutto a livello infrastrutturale, settore che era appasto in forte crisi durante la depressione. Ci si aspettava che i nuovi occupati avrebbero speso i loro salari, acquistando merci nel settore privato. In tal modo, le aziende avrebbero potuto riprendere la produzione, e per fare questo avrebbero assunto nuovi dipendenti, innescando in tal modo un circolo virtuoso, che avrebbe fatto uscire l'economia americana dalla crisi. Il settore agricolo fu sostenuto tramite l'acquisto e la distruzione di grandi quantità di prodotti agricoli, in eccesso, e tramite sostegno diretto ai contadini. In secondo luogo, i sindacati videro riconosciuto il proprio ruolo, e poterono riprendere legalmente le attività, anche con scioperi, ottenendo un generale aumento dei salari. Una legislazione sul lavoro ridusse le ore lavorative, e vietò il lavoro minorile. Altri interventi sostennero vari settori sociali, fortemente colpiti dalla crisi, che aveva in un dirado intaccato l'unità delle famiglie. Gli anziani, i disabili, i disoccupati, le madri sole, ottennero aiuti dallo Stato. Non bisogna dimenticare che l'America, a differenza dell'Europa, non aveva conosciuto leggi sociali come quelle che, da Bismarck in poi, si erano affermate in tutta l'Europa. Le pensioni, i contributi per la vecchiaia, la malattia e l'invalidità non erano garantite per legge. Contemporaneamente, un grande piano di lavori pubblici richiese la mobilitazione di una grande quantità di lavoratori, per costruire ponti, dighe e strade. In particolare fu rinnovata la rete elettrica, la cui insufficienza era stata una delle cause della crisi. Un'area geografica particolarmente colpita, il Tennessee, fu aiutata tramite un'istituzione particolare, la Tennessee Valley Authority, che promosse la costruzione di dighe, strade e bacini lungo il corso di questo grande fiume, nel sud degli Stati Uniti. La TVA divenne un modello, e in parte lo è ancora adesso, per gli interventi statali infrastrutturali nelle aree depresse. Altri interventi puntarono a ridurre squilibri esistenti, ad esempio in ambito fiscale, aumentando le imposte per i redditi più elevati. Una serie di leggi sottopose a un forte controllo le attività di borsa, tramite un'autorità chiamata SEC, Security and Exchange Commission, ancora oggi esistente. In ambito bancario, le banche miste furono vietate, e la Federal Reserve Bank ottenne il potere di controllare periodicamente le banche. Gli istituti finanziari dovettero differenziarsi, occupandosi o della raccolta degli spalmi e la concessione di prestiti a breve termine, cioè banche commerciali, oppure dell'emissione di titoli obbligazionari e del finanziamento delle industrie, banche d'affari. Infine fu introdotta una garanzia federale sui piccoli depositi, in modo da salvaguardare i risparmiatori da altre crisi. Per aumentare le esportazioni, fu abolita la parità aurea e il dollaro fu lasciato svalutare di quasi il 60%. Questa misura fu attuata in quasi tutti i paesi del mondo e segnò la fine definitiva del sistema monetario aureo ottocentesco. I provvedimenti in favore degli afroamericani furono estremamente modesti e questo fu uno dei limiti del New Deal. Anche se il voto degli afroamericani si spostò progressivamente verso i democratici, Roosevelt, che pure non condivideva i pregiudizi razzisti, non volle mai mettere a rischio la sua forte base elettorale, costituita dai bianchi del sud. Come si è detto, i provvedimenti non ebbero un effetto immediato. Nel 1939 in America c'erano ancora 7 milioni di disoccupati. La piena occupazione tornò solo con lo scoppio della guerra in Europa. Francia e Gran Bretagna ripresero a fare acquisti in grande stile in America e gli stessi Stati Uniti iniziarono una politica di riarmo. Il giudizio sul New Deal ancora oggi è oggetto di controversie. Molti repubblicani lo considerarono una forma di socialismo e la Corte Suprema annullò non poche delle misure di Roosevelt. Gli elettori, invece, riconfermarono la propria fiducia nel presidente democratico, colpiti anche dal suo stile dimesso, assai differente dai dittatori che negli stessi anni si diffondevano in Europa. Roosevelt non intese mai porre fine al sistema capitalista. Al contrario, intese salvarlo, indirizzandolo verso un nuovo corso, nel quale il ruolo del governo era decisamente maggiore, ma era pur sempre un governo che rimaneva sotto controllo popolare. e il ruolo del governo che rimaneva sotto controllo popolare. e il ruolo del governo che rimaneva sotto controllo popolare.